Vedi Alessio? Eh, mannaggia quella bestia di Dio. Adesso ti dimostro qual era il problema per il quale io ti scomodai. Vado ad accendere il porco Dio, della merda Dio, e porco Dio, porco Dio! Lo vedi? Non si accende. Io mo' porco Dio! Devo andare alla riunione e non ci posso andare. Mannaggia quella merda di Dio, mannaggia Dio! Lo vedi? Porco Dio, guarda, guarda, guarda le mani, guarda. Mannaggia la madonna, porco Dio de merda, Dio de merda, lo vedi? Io mo' devo andare alla riunione e ai animatori, come cazzo ce vado che c'ho la macchina in doppia fila, porco Dio! Ecco, quindi porco Dio, questo era il problema che porco Dio mi aveva dato porco Dio quella volta, porco Dio. Quindi adesso porco Dio, in teoria porco Dio, aspetto un quarto d'ora, porco Dio, e dovrebbe porco Dio rifunzionare, porco Dio. Beviamo porco Dio, mo' che succede, porco Dio de merda, merda, merda Dio.